Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram. Detto questo, diamoci dentro col video. Il caso di oggi, l'omicidio di Mark Fisher, risulta particolarmente complesso perché inquinato da una serie di incongruenze, false testimonianze e accuse di manomissione della giuria. Nel 2003, il 19enne americano Mark Fisher conduce una vita piena e appagante. Mark aspirava a diventare un contabile. Era uno studente universitario di ragioneria che eccelleva nel suo percorso accademico. Giocava a calcio e praticava altri sport. Proveniva da una famiglia amorevole e laboriosa e aveva molti amici. Una serie di ottobre, dopo un giro insieme ai compagni dell'università per i bar dell'Upper East Side a Manhattan, la vita di Mark Fisher venne stroncata in modo orribile. Mark aveva socializzato con altri ragazzi fuori da un bar, venne invitato a una festa in casa, a Brooklyn, e decise di partecipare. Solo poche ore dopo, il corpo di Mark venne trovato, riverso a faccia in giù, in un vialetto vicino. Era stato picchiato e gli avevano sparato cinque volte. Persistono molte domande irrisolte sull'omicidio di Mark Fisher. Sebbene la polizia abbia arrestato due giovani ed essi siano stati condannati a pene detentive, uno dei due ha sempre affermato di essere innocente. Il caso dell'omicidio di Mark Fisher, come detto, è inquinato da incongruenze, false testimonianze, testimoni ostili o vittime di intimidazioni e accuse di manomistione della giuria. Basti pensare che gran parte dei partecipanti alla festa si sono rifiutati di collaborare con la polizia. Molte delle persone coinvolte nel caso hanno mentito su alcuni dettagli o ne hanno nascosti altri importanti, complicando le indagini delle autorità. Adesso ricostruiamo il percorso di vita del protagonista di questa triste vicenda. Mark Fisher nacque l'8 novembre 1983 a Patterson, nel New Jersey. Viveva con i genitori Michael e Nancy Fisher, il fratello maggiore Michael e la sorella minore Alexis. Mark era una persona gentile e rispettosa alla gente e lo ammirava molto, soprattutto per il suo altruismo. Da bambino giocava a baseball tramite la Little League e a basket. Nonostante fosse asmatico, avesse i piedi piatti e soffrisse di diverse allergie, Mark amava lo sport. Nel corso della sua carriera sportiva vinse vari premi, tra cui quello di Most Valuable Player. Successivamente si fratturò una caviglia durante una partita di calcio, quindi fu obbligato a stare a riposo per riprendersi. Mark suonava anche la chitarra e il pianoforte. Aveva frequentato la Laney Valley Regional High School giocando a calcio e basket ed era considerato un atleta di punta. Studiava alla Farfield University in Connecticut nell'autunno del 2002 e i suoi voti erano eccellenti. Aveva avuto accesso al premio accademico della Dean's List ed era uno studente della National Honor Society. Come detto, aspirava a diventare un contabile e si stava laureando in ragioneria. Mark giocava nella squadra di football dell'università, praticava anche la pallavolo, il basket e il softball. Infine, aveva iniziato a lavorare al Farfield Recreation Center nel dicembre del 2003. Torniamo alla sera del 12 ottobre 2003. Mark Fisher aveva deciso di fare un giro per i bar dell'Upper East Side a Manhattan con alcuni dei suoi compagni dell'università. Era la prima volta che andava a New York da solo con gli amici. Era il weekend del Columbus Day mentre si trovavano al Bar Harbor. Mark incontrò una delle sue compagne di classe, Angel Di Pietro di Firefield. Angel lo invitò a unirsi al suo gruppo. Mark era felice di trascorrere del tempo con Angel e le sue amiche. Anche perché trovava molto carina una di quelle ragazze, si chiamava Meredith de Nian ed era una studentessa bionda e attraente del Vermont. Mark e Meredith si separarono dal gruppo di amici di Mark uscendo dal bar. Mark era piuttosto ubriaco e si arrabbiò parecchio quando si rese conto di aver perso l'ultimo treno per il New Jersey. Insomma, era bloccato a New York, non riusciva a ritrovare i suoi amici dell'università ed era in giro con una ragazza che sì gli piaceva ma che aveva appena conosciuto. Il ragazzo non aveva molti soldi con sé e non sapeva come tornare a casa. A un certo punto Mark e Meredith ritrovarono due degli amici di Angel di Pietro, Albert Clary e il suo vicino ventenne John Juca. Mark e John, tutto sommato, andavano abbastanza d'accordo. Il gruppo però non sapeva come aiutare Mark a tornare a casa. Inoltre, John Juca era troppo giovane per avere accesso ai bar e non disponeva di documenti falsi a differenza di Mark e dei suoi amici. Quindi aveva invitato il gruppo a casa dei suoi genitori a Brooklyn per una festa in tarda notte. John e i suoi genitori vivevano in una casa dotata di sette camere da letto a Stratford Road nella zona di Prospect Park South. I genitori di John lo avevano lasciato solo a casa per il fine settimana, quindi il gruppo prese in considerazione la proposta. Angel fu la prima ad accettare, così ben presto anche Mark e Meredith si accodarono. C'era un sacco di gente alla festa, tra cui un ragazzo di nome Antonio Russo, amico di John. Antonio aveva portato una grande quantità di sostanza leggera alla festa, vendendola a molti invitati. Il party era proseguito fino alle prime luci del mattino. Alcuni dettagli di ciò che accadde alla festa di John sono un po' confusi. I partecipanti avevano ricordi discordanti su alcuni eventi, sulle conversazioni che avevano avuto luogo e sul momento in cui alcune persone avevano lasciato il party. Secondo un testimone, durante la festa John si era infuriato con Mark perché il ragazzo si era seduto su un tavolo. In base a quanto riferito, John era sconvolto dal comportamento del suo nuovo amico. Si era sentito mancare di rispetto a casa sua. Si diceva che poi fosse scoppiata una rissa anche perché a uno degli invitati piaceva Meredith. La polizia sospettava che questo fosse il vero motivo per cui Mark Fisher era stato ucciso. Era anche probabile che ad alcuni dei partecipanti alla festa non piacesse Mark Fisher. Lui era una star in un certo senso, almeno lui era nella sua scuola, nella sua università e forse alcuni invitati erano infastiditi dalla ricchezza e dalla personalità di Mark. Alcuni rapporti verbalizzati indicano che alle 5.23 Mark aveva lasciato la festa e aveva ritirato 20 dollari da un bancomat vicino. Si credeva che Mark avesse prelevato quei soldi per comprare della sostanza oppure degli alcolici. Ma in alcuni dei rapporti successivi alla morte di Mark, la polizia segnala che Antonio Russo era andato con Mark a un bancomat di Coney Island Avenue alle 4.30 del mattino. Apparentemente gli inquirenti sospettavano che il movente dell'omicidio di Mark fosse una rapina, anche se il ragazzo aveva prelevato soltanto 20 dollari. Poco dopo che Antonio e Mark erano tornati alla festa, Angel e Albert decisero di spostarsi a casa di Albert. Albert Clary viveva a soli due isolate di distanza con sua madre, Susan. John Juca affermò che l'ultima volta che aveva visto Mark erano circa le 5 del mattino. Secondo lui il ragazzo aveva afferrato una coperta gialla ed era andato a dormire sul divano. Dichiarò inoltre di aver chiamato a casa di Albert alle 5.57 per fargli sapere che Mark si stava dirigendo a casa sua. Quindi Mark sul suo divano aveva dormito a malapena un'ora? In ogni caso Mark prese questa decisione perché Angel era una delle poche persone che il ragazzo conosceva, dato che erano compagni di classe. Mark dunque uscì da casa di John con la coperta gialla avvolta attorno alle spalle perché faceva freddo. Alle 6.40 la polizia venne chiamata al 150 di Argyle Road. Qualcuno aveva sentito degli spari. La polizia trovò Mark Fisher riverso a faccia in giù nel dialetto di fronte alla casa di Albert. Era stato picchiato brutalmente, poi gli avevano sparato 5 volte. Aveva ferite di arma da fuoco sul petto, ai fianchi e alla schiena. La polizia trovò due bossoli calibro .22 sulla scena del crimine. La camicia del ragazzo era aperta con i bottoni strappati. Il suo corpo era ancora avvolto dalla coperta gialla con cui aveva lasciato la casa di John Juca. Il portafoglio di Mark venne trovato in una fogna vicina, con solo tre oggetti all'interno. La sua carta bancomat, un documento di identità e un buono da spendere nel negozio Old Navy. Mark aveva in tasca solo 12 dollari. La notte in cui Mark si era separato dai suoi amici della Farfield University ed era finito alla festa in casa di John Juca, i suoi compagni ne avevano denunciato la scomparsa. Erano preoccupati perché non sapevano cosa gli fosse accaduto. Temevano per la sicurezza di Mark, anche se non avevano idea che avrebbe incontrato una fine così raccapricciante. L'indirizzo in cui Mark Fisher era stato assassinato sia al 150 di Argyle Road era a due isolati dalla casa di John Juca ed era direttamente dall'altra parte della strada rispetto alla casa di Albert. Sebbene molti vicini avessero chiamato la polizia appena uditi gli spari, Angel, Albert e sua madre affermarono di non aver sentito alcuno sparo quella notte. Eppure, come detto, si trovavano esattamente dall'altra parte della strada. Risulta quindi poco probabile. Quando le autorità competenti intervistarono gli amici di Mark, tutti riferirono che quella notte erano riusciti a contattare Angel di Pietro dopo l'allontanamento di Mark. Avevano chiesto notizie del ragazzo, ma lei risultava evasiva e si rifiutava di dare loro una risposta diretta. Diverse persone le avevano parlato quella notte e a ognuna aveva raccontato una storia diversa. Gli amici di Mark si erano insospettiti. Pensavano che fosse successo qualcosa a Mark e che Angel stesse nascondendo la verità. La ragazza aveva detto ad alcune persone che Mark era ancora alla festa. Ad altri aveva riferito che Mark era riuscito a prendere un biglietto del treno per tornare nel New Jersey verso le 9 o le 10 del mattino. La ragazza, dunque, in base all'interlocutore con cui dialogava, aveva raccontato diverse versioni su dove si trovasse Mark e su quando l'avesse visto l'ultima volta. Angel Di Pietro venne interrogata dalla polizia il 14 ottobre. La versione degli eventi raccontata agli investigatori durante il colloquio risultò molto diversa da quella riportata in tribunale. Prima dell'inizio del processo, Angel fu interrogata una seconda volta. Quanto all'interrogatorio di Albert Cleary, il ragazzo dichiarò che lui e Angel avevano lasciato la festa ed erano tornati a casa sua. Anche dalle sue parole emersero varie versioni dei fatti raccontate a persone diverse. C'erano le solite incongruenze su dove si trovasse Mark e su quando l'avesse visto per l'ultima volta. Inoltre, Albert disse che avevano dormito fino alle 11 del mattino successivo e che, quando si era alzato dal letto, aveva cominciato a pulire il garage. Dopo di che raccontò alla polizia che alla festa era presente anche Lauren Calciano, la ragazza di John Juca, e descrisse Mark Fisher come uno simile a uno zombie perché era estremamente ubriaco. Se ne stava per i fatti suoi, non aveva quasi mai parlato con gli altri invitati. A un certo punto, Mark si era seduto su un tavolo, scambiandolo per una sedia. Uno dei partecipanti alla festa, Tommy, si era avvicinato dicendogli Qual è il tuo problema, amico? Questa non è una sedia. Ne trovi una laggiù. Seriti lì. Mark, dunque, si era alzato e si era subito seduto sulla sedia. Tommy, confuso, si era chiesto cosa ci fosse che non andava in Mark e perché fosse così tanto ubriaco. Questa, dunque, era la portata del presunto incidente causato dalla mancanza di rispetto di Mark che era stato menzionato durante le indagini. In una conversazione tra John, Antonio e Loren, John disse che questo episodio l'aveva infastidito e aveva consegnato una pistola ad Antonio dicendogli di mostrare a Mark come ci si comporta. Antonio aveva condotto John da Mark che nel frattempo era uscito, sapendo che l'avrebbe ucciso. Infine, Antonio aveva attaccato Mark e poi gli aveva sparato. Come detto, però, Tommy aveva riferito alla polizia che era stato lui e non John Juca a dire a Mark di non sedersi sul tavolo. Nonostante ciò, Albert testimoniò che era stato John Juca a essersi arrabbiato con Mark per quel gesto ritenuto irrispettoso. Dunque, l'accusa teorizzò fosse un possibile movente dell'omicidio di Mark. La polizia interrogò anche Loren Calciano su quella notte. La ragazza riferì che John le aveva raccontato che Antonio si era avvicinato a lui dicendo che voleva dare una lezione all'amico di Albert. Quando Antonio gli chiese una pistola, John gliene diede una. Loren disse che non ricordava che Mark avesse mancato di rispetto a John Juca sedendosi sul tavolo. Non menzionò il fatto che ad Antonio fosse stato ordinato di mostrare a Mark come ci si comporta o che John avesse mandato il suo amico Antonio ad aspettarlo. Loren sostiene che Mark e Antonio avevano lasciato la casa di John insieme quella notte per andare al bancomat. Affermò che il giorno dopo il ritrovamento del corpo di Mark, Albert camminava nervosamente e faceva strani commenti. Del tipo, mi chiedono se finirà sul giornale o ancora, non so nemmeno se è vivo o morto. Ma, secondo Albert, quella notte era stato John Juca ad andare fuori di testa e a mostrarsi piuttosto spaventato. Dunque la sua avversione non combaciava con quella di Loren. La polizia tentò di interrogare altri invitati presenti al party, sperando di ottenere una versione più chiara e veritiera di ciò che era accaduto quella notte. Ma, molti dei partecipanti alla festa si presentarono con degli avvocati e la polizia ebbe difficoltà a ottenere risposte dettagliate. Questo agli occhi degli inquirenti appariva sospetto. La loro riluttanza a collaborare con le autorità poteva significare che avevano qualcosa da nascondere riguardo all'omicidio di Mark Fisher. Nel febbraio del 2004, il procuratore distrettuale di Brooklyn, Charles Hines, ritirò dal caso gli investigatori della polizia che avevano indagato fino a quel momento. Aveva deciso di creare una squadra d'elite, composta da pubblici ministeri del suo ufficio e da alcuni investigatori della squadra per casi importanti, del dipartimento di polizia di New York. Michael Vecchione, Anna Sigga Nicolazzi, Patricia McNeil, Josh Hanshaft e altri due investigatori formarono il nuovo team. Va riportato che due membri di questo gruppo, ossia Charles Hines e Michael Vecchione, vennero successivamente collegati a una serie di condanne illecite. Charles Hines ribadì che scelse di cambiare gli investigatori assegnati al caso di Mark Fisher perché vi era una frustrante assenza di progressi e voleva sfruttare gli investigatori più validi che potessero segnare una svolta nelle indagini. I primi investigatori del caso avevano tracciato troppe piste da seguire, ma il nuovo gruppo decise di abbandonare la maggior parte di quelle linee di indagine e di concentrarsi principalmente su Antonio Russo e su John Juca, come sospettati. Il funerale di Mark Fisher si tene il 17 ottobre 2003 a Sparta, nel New Jersey. C'erano più di 600 persone presenti tra familiari e amici di Mark del liceo e del college. Michael Fisher, il padre di Mark, pronunciò lo straziante elogio durante la cerimonia. Disse quanto segue. Mark non si è mai vantato dei suoi successi. Era una persona umile e modesta. Amava sua madre e sua sorella e ammirava suo fratello. Era un burlone e un ragazzo divertente. Mi ha sempre reso felice nella vita. Di solito un figlio impara da suo padre. Io ho imparato molto da lui. Il mio cuore è spezzato. Mi mancherà molto. Mark, nessuno ti sostituirà mai, figlio mio. Ti amo. Durante le indagini, la polizia studiò i tabulati telefonici per scoprire se alcuni ragazzi fossero rimasti in contatto tra loro subito dopo l'omicidio. Prima del delitto di Mark Fisher, Antonio Russo e John Juca avevano a malapena parlato al telefono, ma nelle 24 ore successive alla morte di Mark si erano chiamati a vicenda ben 26 volte. Questo è un elemento che la polizia ritene sospetto, ovviamente. Subito dopo l'omicidio di Mark, Antonio Russo decise di tagliare i dreadlock e di lasciare New York. Volò in California e rimase lì per un po' prima di tornare a casa. La polizia considerò strano che Antonio Russo si fosse tagliato i dreadlock con una simile urgenza, poiché i c'erano voluti anni e anni per farli crescere. Anche il fatto che avesse lasciato così in fretta lo Stato risultava sospetto. Sebbene la polizia stesse sorvegliando Antonio Russo e John Juca come principali sospettati dell'omicidio, riteneva che tutti i partecipanti alla festa meritassero interesse. Tuttavia, ancora non c'erano prove. Cercare di delineare una sequenza temporale che individuasse la posizione di tutte le persone coinvolte nei fatti di quella notte si rivelò più difficile del previsto. Come detto, emergevano versioni contrastanti tra coloro che si erano resi disponibili all'interrogatorio, ma molti non stavano collaborando con la polizia e si affidavano al proprio avvocato. Le indagini così si trascinarono molto più a lungo di quanto sperato. Si arrivò al punto in cui il PM Anna Sigga Nicolazzi dovette costringere molti degli amici di John Juca a testimoniare davanti a un gran giurì. Alcuni di loro furono scagionati da ogni sospetto, incluso Albert, ma su Albert ci torniamo poi un attimino. Altri testimoniarono contro John Juca. La polizia all'inizio teorizzò che Mark Fisher fosse stato trascinato fuori dalla festa e gettato in un veicolo. Gli era stato ucciso a colpi di arma da fuoco. La persona o le persone responsabili, poiché la polizia ipotizzava che ci fossero più aggressori, avevano avvolto il corpo di Mark nella coperta gialla, poi lo avevano scaricato su Argyle Road. Gli aggressori, magari in preda al panico, si erano poi convinti che i vicini avessero sentito gli spari quella notte e temevano che Mark potesse essere ancora vivo. Dunque gli avevano sparato di nuovo mentre giaceva sul marciapiede, ormai già senza vita. Antonio Russo venne arrestato il 23 novembre 2004, 13 mesi dopo l'omicidio di Mark Fisher. Venne accusato di due capi di imputazione per omicidio di secondo grado e tre capi di imputazione per rapina e armi. Il 21 dicembre 2004, John Juca venne arrestato nella sua casa di Brooklyn. Venne accusato di aver fornito ad Antonio Russo l'arma del delitto, una pistola semiautomatica. Inoltre venne accusato di omicidio di secondo grado, omicidio colposo di primo grado, rapina sia di primo che di secondo grado e molteplici accuse di possesso criminale di un'arma. John Juca era considerato il principale sospettato nel caso di omicidio, soprattutto considerando l'ultima volta in cui Mark Fisher era stato visto alla festa in casa sua. John Juca aveva studiato diritto penale al college e, attenzione, voleva fare il poliziotto. Quella però non era la prima volta in cui veniva arrestato. Nel luglio del 2004 era stato fermato per aver sparato a un gruppo di uomini mentre era in vacanza in Florida. Le accuse però vennero ritirate. Poi, il 30 settembre 2004, John Juca era stato arrestato mentre vendeva sostanze all'angolo di una strada di Brooklyn e indossava un giubbotto antiproiettile. John Juca e Antonio Russo furono processati insieme come coimputati, sebbene avessero giurie separate. Il loro processo ebbe inizio nel settembre 2005. L'accusa portò avanti l'argomentazione secondo cui John Juca e Antonio Russo erano membri della Ghetto Mafia, una banda di strada di cui John Juca sarebbe stato il capitano. L'accusa disse alla corte che i due coimputati avevano sparato a Mark Fisher perché avevano bisogno di credibilità, dovevano mostrarsi duri per apparire come membri degni di una banda di strada. Fisher era un ricco studente universitario, considerato un bersaglio facile. L'accusa insistette sul fatto che John Juca avesse dato ordini a Antonio Russo spesso perché era uno dei suoi soldati nella banda. La banda aveva inserito una nuova politica in base alla quale gli aspiranti nuovi membri avrebbero dovuto uccidere qualcuno per entrare a farne parte. I testimoni dissero che una settimana prima dell'omicidio di Mark Fisher John Juca aveva sfoggiato una pistola calibro 22. E questa era l'arma del delitto, l'arma che aveva ucciso Mark Fisher. C'erano però alcune incongruenze riguardo alla pistola che, tra l'altro, non era neanche mai stata trovata. Tre testimoni si erano fatti avanti indistintamente dicendo alla polizia di aver visto Antonio Russo con una pistola nella cintura prima dell'omicidio. Sostenevano che aveva minacciato uno di loro con quell'arma. Un testimone però riferì alla polizia che Antonio Russo gli aveva detto di non aver preso la pistola da John Juca, ma da qualcun altro. Diversi testimoni ammisero che Antonio Russo aveva affermato di aver ucciso Mark Fisher vantandosi dell'omicidio. Eppure, il migliore amico di John Juca, Albert, testimoniò contro di lui. Disse alla corte che una settimana prima dell'omicidio John Juca gli aveva detto che aveva bisogno di fare un colpo. Albert inoltre dichiarò che la notte dell'omicidio di Mark Fisher John Juca gli aveva raccontato che aveva condotto la vittima fuori di casa verso l'alba, convincendolo a camminare con lui, giusto per fare quattro passi. Mark non sapeva che Antonio Russo li stava aspettando e che era armato della pistola di John Juca. Antonio Russo attaccò Mark Fisher. Mark era un ragazzo atletico che forse, se Antonio Russo non fosse stato armato, avrebbe potuto mettersi in salvo. Infatti Mark Fisher si difese dall'assalto, ma Antonio Russo gli sparò cinque volte con la pistola calibro 22. Dopodiché lasciò lì il corpo di Mark Fisher riverso a terra e tornò da John Juca, sussurrando «È fatta!» Dopo che John Juca ebbe raccontato a Albert l'accaduto, gli avrebbe chiesto di sbarazzarsi dell'arma del delitto. Anche la fidanzata di John Juca, Lauren Calciano, testimoniò dicendo alla corte che John era coinvolto nell'omicidio e che aveva fornito l'arma del delitto ad Antonio Russo. John Juca, dal canto suo, fu irremovibile nell'affermare che la pistola non fosse sua. Insistette sul fatto che non aveva mai posseduto una pistola in vita sua e che in generale non aveva mai sparato. Contestò l'affermazione di essere il capitano della banda di strada della ghetto mafia, sostenendo che l'intera teoria della gang di strada sollevata in tribunale era un enorme malinteso. Infatti, il suo gruppo di amici in realtà aveva molti soprannomi. A nove anni appellarono la loro comitiva Westminster Warriors. All'età di undici anni scelsero il nuovo nome Stratford Stay Cats. Infine si definirono Ghetto Mafia. Juca ribadiva che non si trattava di una banda di strada assassina ma piuttosto di un gruppo di adolescenti che si frequentava regolarmente. Antonio Russo riportò una versione diversa dei fatti accaduti quella notte e testimoniò di non aver sparato a Mark Fisher e disse che era stato John a farlo. L'ex compagno di cella di John Juca, John Avitto, fu chiamato a testimoniare durante il processo. Disse che mentre erano nel carcere di Rickers Island, aveva sentito John Juca parlare al telefono con suo padre e confessare di aver ucciso Mark Fisher. John Avitto sostenne che John Juca aveva colpito con la pistola Mark Fisher ma che qualcun altro gli aveva poi preso l'arma e aveva sparato al ragazzo a morte. La testimonianza di John Avitto però venne messa in discussione in quanto il padre di John Juca aveva avuto un ictus alcuni anni prima e non poteva parlare. John Juca rimase sconvolto dalla testimonianza di John Avitto perché, sebbene l'avesse conosciuto, non ricordava di aver parlato né con lui né al telefono con suo padre. John Juca disse quanto segue rispetto alla dichiarazione di John Avitto. Pensavo che la giuria sarebbe stata facilmente in grado di valutare la falsità della testimonianza. Era ovvio che le cose che stava dicendo John Avitto non solo contraddicevano tutti gli altri testimoni e le prove fisiche del caso ma, in più, si basavano su informazioni apprese leggendo i giornali. E in effetti non c'era nessun'arma del delitto, nessun testimone oculare, nessuna prova forense contro John Juca. La pistola calibro .22, come detto, non venne mai rinvenuta sulla scena del crimine. La polizia aveva trovato solo i cinque bossoli. L'intero caso era incentrato su quattro testimoni che si esprimevano contro John Juca. Però queste testimonianze a sfavore ricostruivano diverse versioni dei fatti. Le storie erano contrastanti, infatti alcune di esse furono smentite. I testimoni affermarono di aver sentito da John Juca precise ammissioni di colpevolezza e l'accusa le considerò come un fatto certo e assoluto. Tra dei testimoni che successivamente ritrattarono la loro testimonianza furono Loren Calciano, Anthony Berry e John Avitto, che, come detto, era stato in carcere con John Juca. La testimonianza del quarto testimone, Albert, fu completamente screditata in quanto piena di incongruenze e incompatibilità con le prove del caso. Quando la polizia lo aveva interrogato all'inizio dell'indagine, ossia nel novembre 2003, Albert aveva raccontato l'episodio di John Juca che si arrabbia contro Mark e si sente mancare di rispetto perché il ragazzo si è seduto su un tavolo di casa sua. Ma questo episodio, anche se reale, non può essere considerato come l'evento scatenante dell'omicidio. Inoltre, era Tommy che aveva affrontato Mark dicendogli di andare a sedersi su una sedia e non John Juca. Albert testimoniò che Mark Fisher era stato picchiato e colpito a colpi di arma da fuoco da Antonio Russo all'angolo tra la Turner e Stratford Road, a solo un isolato della casa di John Juca. Questa affermazione però risultò falsa e il luogo effettivo dell'attacco e dell'omicidio era il 150 di Argyle Road, direttamente di fronte alla casa di Albert. È lì, nel violetto che il corpo di Mark Fisher è stato trovato e non nel luogo che Albert aveva descritto. È noto che la persona che chiamò i servizi di emergenza quella mattina era un vicino di casa di Albert. Ogni residente interrogato lungo Argyle Road dichiarò di aver sentito degli spari quella mattina. E a dirla tutta, anche i residenti di Stratford Road e Turner vennero interrogati e riferirono di aver sentito degli spari in lontananza perché in realtà non sono così distanti le strade. Gli unici presenti ad Argyle Road che non avevano sentito spari o sirene della polizia quando Mark Fisher era stato assassinato erano coloro che si trovavano a casa di Albert. In base a quanto dichiarato avevano dormito per tutto il tempo e non avevano mai nemmeno guardato fuori dalla finestra nonostante il trambusto. La polizia aveva anche bussato alla porta della residenza di Albert alle 9.05 di quella mattina mentre gli agenti perlustravano la zona ma nessuno aveva aperto la porta. La madre di Albert apprese dell'omicidio consumato dall'altra parte della strada da uno dei vicini. La polizia era decisamente sospettosa sul fatto che Albert non avesse sentito alcun rumore quella notte poiché la finestra della sua camera da letto affacciava sulla strada. In pratica poteva addirittura vedere il luogo dove giaceva il corpo senza vita di Mark. C'è poi un altro fatto interessante da considerare. Quella notte i testimoni di Argyle Road riferirono alla polizia di aver sentito le voci di due uomini e una donna che parlavano nel dialetto dopo l'assassinio di Mark. Un testimone aveva udito il rumore della porta scorrevole di un furgone mentre altri avevano visto un furgone di colore scuro allontanarsi dalla scena del crimine. La famiglia di Albert possedeva un veicolo che corrispondeva proprio a quella descrizione. Era possibile che Albert fosse il colpevole? La polizia come detto credeva nella complicità di più aggressori. La voce della donna dunque poteva essere quella di Angel? Quella notte John aveva chiamato Albert per fargli sapere che Mark si stava dirigendo verso Argyle Road per raggiungere casa sua. Era avvolto nella coperta gialla per proteggersi dal freddo di quella mattina di ottobre. Risultava difficile determinare esattamente cosa fosse successo a Mark Fisher ma forse Angel e Albert avevano tentato di coprire i colpevoli del suo omicidio. Era anche sospetto che nella testimonianza contro John Juca Albert avesse mentito al banco dei testimoni distorcendo i fatti per far ricadere la responsabilità su John. Forse cercava un modo per avere meno attenzione su di sé? Al momento dell'omicidio Albert era in libertà vigilata. Aveva già scontato tre anni di una condanna che ne prevedeva cinque. Era stato arrestato dopo essersi ubriacato e aver aggredito due persone fuori da un bar mandandole addirittura in ospedale. Il ragazzo le aveva picchiate ripetutamente le aveva prese a calci in testa. Durante l'autopsia di Mark Fisher le autorità notarono che il ragazzo aveva dei lividi sulle mani segno del suo tentativo di difendersi e che riportava ferite sul lato destro della faccia. Questo è un dettaglio interessante perché significa che il suo aggressore era mancino. Però John Juca era destrorso e a giudicare dalle ferite probabilmente non era lui l'aggressore. Albert invece era mancino quindi era lui il colpevole. Subito dopo l'assassinio di Mark Fisher la madre di Albert andò a casa del vicino e gli chiese di non fornire alla polizia alcuna informazione su Albert. Perché? C'era chiaramente qualcosa che voleva nascondere e che riguardava la notte della festa e quindi la notte dell'omicidio. La polizia aveva trovato una ricevuta del bancomat sul corpo di Mark Fisher con l'indicazione dell'ora ossia 4.23. Questa informazione era stata pubblicata sul giornale. Il 30 ottobre 2003 la polizia scoprì che l'orologio del bancomat portava un'ora indietro e che Mark aveva effettivamente ritirato i 20 dollari alle 5.23. La madre di Albert a febbraio del 2004 disse ai giornalisti del New York Times che suo figlio era arrivato a casa alle 4.30 della mattina in questione. Quell'orario come qualcuno ipotizzò serviva a creare un alibi per Albert. Se fosse davvero rientrato a casa per le 4.30 non avrebbe potuto uccidere Fisher. C'è inoltre una cosa che non mi torna. Mark ritira i 20 dollari alle 5.23. John Juca dice di aver visto Mark l'ultima volta a casa sua verso le 5.00. Poi qualche minuto prima delle 6.00 chiama Albert per dirgli che Mark sta andando a casa sua. Gli orari non tornano. Non ne torna mezzo di orario qui. Com'è possibile? Già era strano che Mark si fosse addormentato un'ora sul divano dopo aver fatto una nottata di bagordi? Com'è possibile tutto questo? Io qui non capisco perché gli orari non tornano. Se il punto fisso, un orario sicuro è quello delle 5.23 in cui Mark ha effettuato il prelievo che cavolo è successo dopo? In che modo ha raggiunto la casa di Albert? Quando l'ha raggiunta? Come può dire John di averlo visto alle 5 che prendeva una coperta, si copriva e si metteva a dormire? Stanno mentendo? Tutti? Probabile. Ma torniamo un attimo a parlare dei fatti. Divenuto noto che Fisher era andato al Bancomat alle 5.23 e non alle 4.23 come ritenuto in precedenza le parole della madre di Albert perdono di credibilità. La polizia sapeva che Albert era con Antonio Russo e Mark Fisher sia quando erano andati al Bancomat sia quando erano tornati alla festa in casa. Era dunque impossibile che Albert fosse tornato a casa per le 4.30. Ecco un'altra incoerenza nella storia da lui raccontata. I pubblici ministeri avevano molte teorie da sostenere in tribunale come il potenziale omicidio a scopo di rapina. Ma allora perché Mark aveva prelevato solo una ventina di dollari al Bancomat? Teorizzano pure che John fosse davvero arrabbiato con Mark per essersi seduto sul tavolo durante la festa o che il ragazzo avesse litigato con un altro invitato il quale era anche lui interessato a Meredith. Oppure ancora che John Juca in qualità di capitano della banda di strada avesse ordinato a un aspirante membro di uccidere Mark Fisher per l'iniziazione. Queste teorie avanzate dall'accusa sono tutte speculazioni. Non c'erano prove che conducevano in modo inconfutabile alla colpevolezza di John Juca. Nell'ottobre 2005 sia Antonio Russo che John Juca vennero condannati a 25 anni di carcere. La giuria che valutava Antonio Russo trascorse due giorni a deliberare prima di dichiararlo colpevole. Nel caso di John Juca la giuria impiegò solo due ore per la deliberazione. Fu ritenuto colpevole con l'accusa di omicidio di secondo grado rapina e possesso criminale di un'arma da fuoco e fu mandato nella prigione di Rickers Island. Doreen Giuliano, la madre di John Juca rimase sotto sciocco quando in tribunale venne letta la sentenza di suo figlio. Divenne pallida come un fantasma non poteva credere che John stesse davvero andando in prigione perché è ritenuto colpevole della morte di Mark. John Juca si agitò parecchio balzò in piedi e cominciò a gridare Siete felici adesso? Rivolgendosi agli investigatori in prima fila. Nel 2008 John Juca affermò di non aver avuto un processo equo a causa della cattiva condotta dei testimoni e dei giurati. Presentò una mozione per annullare il verdetto alla Corte Suprema dello Stato di New York a Brooklyn ma questa venne respinta. John Juca allora decise di impugnare la mozione ma il secondo dipartimento della divisione d'appello di New York respinse nuovamente la sua richiesta. Il 14 maggio 2013 il giudice Frederick Block del Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il distretto orientale di New York respinse la petizione di John Juca che era implacabile. Nel febbraio 2014 il suo avvocato presentò una petizione di 75 pagine al procuratore distrettuale di Brooklyn Kenneth P. Thompson la petizione chiedeva che la sua condanna fosse rivista e annullata a causa della cattiva condotta dell'accusa. L'avvocato di John Juca sostenne che il difensore del processo non aveva evidenziato molteplici incongruenze così come la ritrattazione della testimonianza di testimoni chiave. Inoltre affermò che gran parte delle prove utilizzate nel processo erano state create appositamente compresi i tabulati telefonici. Fornì i nomi di tre testimoni che in seguito ritrattarono le loro testimonianze persone che all'epoca dei fatti sostenevano che John Juca aveva fornito ad Antonio Russo la pistola calibro 22 usata nell'omicidio di Mark Fisher. L'avvocato inoltre fece notare che alcuni testimoni avevano ricevuto un trattamento speciale come Angel Di Pietro figlia di un avvocato penalista. Angel Di Pietro era stata assunta dal predecessore del procuratore Thompson Charles Hines e lavorava nell'ufficio del procuratore distrettuale di Brooklyn. Il procuratore distrettuale Kenneth P. Thompson aveva creato la Conviction Review Unit a New York. Era in carico solo da un anno scarso e aveva promesso di rivedere più di 100 condanne ritenute discutibili. Molte incongruenze risalivano a quando il predecessore di Thompson Charles Hines era in carica. L'unità di revisione delle condanne aveva già annullato 10 pene poiché c'erano prove che i testimoni erano stati costretti a riferire certe cose mandando in prigione persone innocenti. L'unità esaminò attentamente anche il caso di John Juca e stabilì che i tabulati telefonici relativi alla conversazione tra Antonio Russo e John Juca erano fasulli erano stati creati appositamente per sostenere la colpevolezza. Vi ricordo che venne riferito che i due ragazzi si erano chiamati a vicenda per un totale di 26 volte in 24 ore dopo la morte di Mark Fisher ma ora l'unità di revisione riteneva che quel numero non fosse corretto. L'avvocato di John Juca era preoccupato anche perché buona parte dei vicini che avevano sentito i cinque colpi di arma da fuoco risuonare nella notte del 12 ottobre 2003 non erano stati chiamati a testimoniare. Il vicino Michael Swarnick raccontò ai giornalisti di aver trovato il corpo di Mark Fisher nel suo vialetto avvolto in una coperta gialla. Aveva sentito gli spari i rumori di una portiera di un furgone che si apriva e le voci di un paio di uomini oltre a una voce di donna. Nel gennaio 2015 Kenneth P. Thompson annunciò che il caso di John Juca era stato esaminato a fondo ma non vi avevano riscontrato alcun illecito. Il procuratore dichiarò quanto segue ho stabilito che la condanna di John Juca per l'omicidio di Mark Fisher è giusta e non dovrebbe essere annullata. L'imputato ha ottenuto un processo equo potrebbe non piacergli il risultato ma questo si basa sulle prove presentate. Non ci sono prove di effettiva innocenza. John Juca nel frattempo aveva già scontato dieci anni di pena. Inizialmente come detto era stato mandato a Rickers Island ma in seguito venne trasferito al Clinton Correctional Facility. Nonostante non fosse riuscito a farsi scarcerare John Juca continuò a combattere per contrastare la sua condanna. Il 9 giugno 2016 presentò la sua seconda mozione per annullare il verdetto. Il 13 giugno il giudice della Corte Suprema di Brooklyn Danny Chan tenne un'udienza proprio per esaminare il caso di John Juca. Dopo la valutazione il giudice stabilì che John Juca aveva avuto un processo equo e negò la mozione. L'avvocato di John Juca però dichiarò che intendeva impugnare il verdetto. Il 7 febbraio 2018 una giuria di 4 giudici della Corte d'appello del secondo dipartimento giudiziario dello Stato di New York riunita a Brooklyn votò per annullare la condanna di John Juca. Venne dunque ordinato un nuovo processo. Stabilirono che l'ufficio del procuratore distrettuale aveva nascosto le informazioni pertinenti alla difesa. A John Juca venne negata più volte la libertà su cauzione durante quell'anno ossia il 20 febbraio il 28 giugno e il 6 settembre 2018. Il 22 marzo 2018 Antonio Russo confessò di aver ucciso Mark Fisher. In precedenza aveva testimoniato che era stato John Juca a sparare a Mark Fisher se ricordate. Ma in una dichiarazione pervenuta all'avvocato di John Juca Antonio Russo aveva cambiato la storia. Affermò di essere stato effettivamente lui a uccidere Mark Fisher e che l'arma del delitto era sua. Non implicò più Juca nell'omicidio di Mark ma si assunse tutta la colpa. Il 28 giugno 2018 la più alta corte di New York decise che avrebbe ascoltato il caso di John Juca. Fu fissata una data il 30 aprile 2019. Era il tipo di notizia che John Juca sperava di ricevere da anni. Forse avrebbe potuto lasciare la prigione. Almeno queste erano le sue speranze. Tuttavia la corte d'appello di New York ribaltò la decisione della corte d'appello del secondo dipartimento giudiziario dello stato di New York a Brooklyn. Ripristinarono la condanna per omicidio quindi. Risultava che la difesa fosse in possesso di informazioni sui favori che l'accusa aveva fatto a un testimone chiave ma il giudice capo dello stato di New York Janet Di Fiore ritenne che questo fatto non avrebbe alterato in alcun modo il corso del processo. L'avvocato di John Juca decise di assumere un investigatore privato Jay Sautter gli chiese di indagare su John Avitto l'informatore di Rickers Island che aveva testimoniato contro John Juca. Jay Sautter andò a incontrare John Avitto e discusse con lui dell'omicidio di Mark Fisher e della sua testimonianza. L'uomo si attenne alla storia già raccontata e insistette sul fatto che John Juca era coinvolto nell'omicidio del 2003 ma durante una conversazione successiva che fu registrata John Avitto ammese di aver mentito sull'intera faccenda e dunque sul coinvolgimento di John Juca. John Avitto gli disse che gli investigatori della polizia e il procuratore Nicolazzi gli avevano promesso che se avesse testimoniato contro John Juca non sarebbe stato incarcerato nuovamente dopo aver violato la libertà vigilata. John Avitto a questo punto firmò una dichiarazione giurata affermando di aver testimoniato falsamente al processo di John Juca. Questa dichiarazione giurata venne depositata in tribunale poco dopo la conversazione con Jay Sutter ossia l'investigatore privato. John Avitto dunque non solo ritrattò la sua testimonianza ma si scusò con John Juca. In ogni caso John Avitto non fu l'unico a ritrattare la propria testimonianza in un secondo momento. la ragazza di John Juca Lauren firmò una dichiarazione giurata in cui affermava di aver mentito al banco dei testimoni. La polizia e la PM Nicolazzi avevano fatto molte pressioni affinché testimoniasse contro John Juca. L'avevano minacciata dicendo che avrebbero reso difficile la vita a suo padre che in quel momento era in prigione. Il 9 agosto 2019 l'avvocato di John Juca presentò una terza mozione di revoca della condanna sulla base di nuove prove. L'udienza venne fissata per gennaio 2021. La condanna di John Juca venne ribaltata di nuovo sebbene fosse ancora in prigione. Durante un'intervista in carcere con Twenty Twenty nel 2019 Juca dichiarò quanto segue «Non ho nulla a che fare con l'omicidio di Mark Fisher voglio che il mio nome sia cancellato da questa vicenda una delle parti peggiori di tutta questa storia è che la gente crede che io sia un assassino». Dorine Giuliano la madre di John Juca come detto era sconvolta dal fatto che suo figlio venisse rinchiuso in prigione con l'accusa di omicidio. Dopo aver appreso di una probabile cattiva condotta dei testimoni durante il processo decise di concentrarsi sui giurati che avevano condannato suo figlio ottenne la lista con tutti i nominativi e iniziò a indagare su ogni membro voleva sapere quali membri della giuria credevano che John Juca fosse colpevole e quale fosse il loro ragionamento alla base di questa affermazione. Dorine decise di cercare prove di nascosto nel tentativo di contribuire a ribaltare la condanna di suo figlio avviò dunque un'indagine non autorizzata sul giurato numero 8 Jason Allo dopo il processo a suo figlio Dorine scoprì quale fosse l'occupazione di Jason Allo e il suo indirizzo di residenza viveva a Bensonhurst a Brooklyn seguendo alcune piste Dorine riuscì a rintracciarlo affittò un appartamento vicino alla casa di Jason Allo creando una fase d'identità ossia di Madison Queen cambiò il suo aspetto per non essere riconosciuta il che implicava tingersi i capelli di piondo e ricorrere alle lampade o comunque agli abbronzanti iniziò a indossare scarpe con tacco reggiseni push up e abiti provocanti per attirare l'attenzione di Jason Dorine acquistò un cellulare e un biglietto da visita sarebbe rimasta in quella casa per un anno col fine di sorvegliare Jason voleva conoscere tutto di lui dunque la seconda fase del suo piano prevedeva fare amicizia con Jason insomma era fondamentale guadagnarsi la sua fiducia convincerlo a parlare del processo per l'omicidio di Mark Fisher e della sua esperienza come giurato Dorine teneva segretamente un registratore nella borsa ogni volta che conversava con Jason gli disse che si era recentemente trasferita dalla California a Brooklyn e che adorava fare festa dovette impegnarsi per alcune settimane ma alla fine Jason iniziò a trascorrere del tempo con lei a raccontarsi e la donna riuscì a farlo parlare del processo a John Juca Jason confidò a Dorine che aveva conoscenze in comune con John Juca fin dal liceo dai suoi commenti si avinse che secondo lui era legato alla banda di strada quindi alla ghetto mafia Jason aggiunse che se i tribunali avessero saputo di questi amici comuni a entrambi non gli avrebbero permesso di far parte della giuria ammise inoltre di essere stato il primo giurato a pronunciarsi su un verdetto di colpevolezza durante la deliberazione del processo a John Juca in più proprio durante il processo aveva discusso il procedimento con il cugino il quale frequentava un amico di John Juca mesi dopo la loro amicizia Dorine inviò una copia di queste conversazioni alla corte suprema dello stato nel file audio potevano udirsi alcuni commenti orribili espressi da Jason l'uomo inizialmente aveva creduto che John Juca fosse ebreo e per questo lo detestava Dorine sperava che il materiale fosse utile a ribaltare la condanna di suo figlio poiché la cattiva condotta della giuria rappresentava la base per l'appello di John Juca ma le sue azioni vennero condannate dal giudice che descrisse il suo comportamento come sconsiderato il 14 ottobre 2021 in tribunale vennero ascoltate le argomentazioni per determinare se a John Juca spettasse il nuovo processo il secondo dipartimento della divisione ricorrente negò una richiesta di udenza per esaminare le prove della cattiva condotta dei giurati poiché non c'erano dichiarazioni giurate in cui Jason ammetteva la propria colpevolezza le registrazioni di Dorine come detto vennero giudicate inaffidabili dal giudice Alan Marrus a oggi John Juca è ancora dietro le sbarre sebbene alcune persone credano fermamente che lui sia il colpevole dell'omicidio di Mark Fisher molti altri ritengono che sia stato arrestato e condannato soltanto a causa delle false testimonianze dei pubblici ministeri corrotti e degli investigatori di polizia coinvolti nel caso i genitori di Mark Fisher piangono ancora la morte del figlio ogni anno i familiari del ragazzo si recano a Brooklyn e ripercorrono il vialetto di Argyle Road dove Mark è stato assassinato ora lì non ci abita più nessuno hanno posizionato una roccia nel giardino sulla quale è scritto il nome di Mark Fisher la sua data di morte è il numero 19 cioè l'età che aveva quando gli è stata tragicamente tolta la vita credono fermamente che ci fossero altre persone coinvolte nell'omicidio di Mark e che siano riuscite a farla franca detto questo vi ho finito di parlare in questo video fatemi sapere cosa ne pensate di questo caso perché è intricato e ingarbugliato nonostante siano sempre le stesse persone insomma che vengono tirate in ballo gli orari non tornano una persona dice una cosa una persona dice esattamente l'opposto è davvero davvero confuso questo caso sono la prima che ve lo dice ma vorrei davvero sapere la vostra opinione quindi come al solito ci becchiamo qui sotto nei commenti io nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti 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 ciao a tutti